Riforma sanitaria regionale, l'ospedale di Bassano non si tocca, così il governatore del Veneto Luca Zai ha alla luce anche delle pressanti richieste del territorio che venga mantenuta a Bassano l'Ulss chiedendo a gran voce l'azienda sanitaria pedemontana Vicentina una necessità per un'area vasta come quella del Bassanese. Tre settimane fa circa lei aveva promesso la visita all'Ulss di Bassano, lei non è ancora arrivato a Bassano, la stanno aspettando? Ma io a Bassano ci vengo volentieri, ovviamente compatibilmente con tutti i casini che abbiamo posso dire voglio anche ricordarvi che nel frattempo c'è stata dieci giorni fa la morte di una nostra cittadina Valeria Solezini che ci ha visto impegnato su molti fronti, abbiamo avuto un sacco di impegni ma Bassano non è assolutamente dimenticato figuratevi a Bassano abbiamo il tema dell'ospedale, il tema della Ulss, il tema del tribunale Bassano non lo tocca nessuno ma sarebbe limitativo dire non lo tocca nessuno su Bassano abbiamo un progetto di investimenti che i cittadini resteranno stupiti quando vedranno io penso che se un cittadino paga le tasse deve stare tranquillo a casa e pensare che ha l'ospedale che avrà dei medici in gamba che lo curano guardate che io non abito in città, abito in campagna e quindi so cosa vuol dire avere un ospedale vicino a casa lascia